Servirebbero almeno 50 lavoratori perché abbiamo un picco di mercato, vendiamo molti frigoriferi di alto di gamma, soprattutto chiesti dai mercati del nord Europa. Quando la qualità paga? Potremmo intitolarlo così questo servizio che dimostra come la produzione, non a ribasso ma verso un alto di gamma, porti posti di lavoro. In realtà sono timidi segnali di inversione di tendenza dopo gli annunci di tagli e chiusura nei mesi scorsi e nonostante all'Electrolux ci sia ancora l'applicazione dei contratti di solidarietà. L'aumento di richieste hanno già occupato i lavoratori per 6 sabbete fino alla fine d'agosto. Ora continuando la domanda dall'estero, la direzione chiede ulteriori ore lavoro che potrebbero essere coperte utilizzando la legge sul lavoro a distacco, ovvero occupare lavoratori di altre aziende in difficoltà come ad esempio l'Annardi di Pieve di Soligo nelle linee di Susegana, un progetto con indubi vantaggi. Ma perché il lavoratore di un'impresa che attualmente ha i lavoratori in casa integrazione a zero ore lavorerebbe per un po' di mesi e quindi avrebbe la piena della retribuzione. L'impresa che li riceve avrebbe i lavoratori, l'Electrolux che gli servono per fare i volumi che in questo momento hanno difficoltà per troppa poca manodopera presente e dall'altro l'Inps che scaricherebbe quel costo che ogni mese gli deriva da dover pagare la casa integrazione. Grazie a tutti.